Iniziativa della ASL Lanciano Vasto Chieti che per due settimane farà tamponi gratis alla popolazione. Il provvedimento preso dall'azienda deriva dall'analisi svolta dal Dipartimento di Prevenzione degli ultimi dati relativi al contagio in provincia di Chieti dove alla data del 15 maggio a fronte di una discesa sensibile della prescrizione di tamponi molecolari erano attivi oltre 5.500 casi covid di cui 82 ricoverati in ospedale per una media di 714 casi ogni 100.000 abitanti. Numeri che sembrano andare incontro a quanto affermato nei giorni scorsi dal manager della ASL Thomas Schell. L'ancora elevata circolazione del virus può essere dovuta al massiccio utilizzo di test fai-da-te di dubbia, provenienza e affidabilità che possono generare una mole cospicua di falsi negativi ovvero soggetti che sono contagiati ma il test non rileva materiale virale che non ponendosi in isolamento alimentano il contagio. Il direttore del laboratorio di genetica molecolare Liborio Stupia fa anche notare come nei tamponi fai-da-te gioca un ruolo decisivo anche la modalità del prelievo laddove il tampone non venga effettuato con la dovuta perizia è possibile avere un risultato negativo semplicemente perché nel campione analizzato non ci sono abbastanza molecole virali aumentando il rischio di falsi negativi mai di falsi positivi. Dunque per accertare i reali casi di infezione e limitarne la diffusione l'ASL Lanciano Vasto Chieti offre ai cittadini residenti e turisti la possibilità di sottoporsi a testa antigenici gratuiti presso gli hub vaccinali di Lanciano e Chieti da oggi e fino al 30 maggio dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 per avere accesso ai tamponi eseguiti dal personale sanitario basterà presentarsi con la prescrizione del medico di medicina generale o del pediatra oppure portando con sé il kit per il fai-da-te acquistato su internet e canali non afferenti alle farmacie convenzionate. In commercio, fa notare l'azienda sanitaria, si trovano tipi diversi ma solo quelli venduti in farmacia sono garantiti dal Ministero della Salute. I numeri più alti del contagio si registrano nei comuni di Chieti, Francavilla al Mare, Lanciano, San Giovanni Teatino, San Salvo e Vasto dove sono domiciliati la metà dei casi dell'intera provincia.